7 marzo 1856 nasce Matilde Serao, scrittrice e giornalista protagonista del rinnovamento della pubblicistica italiana negli anni cruciali fra 800 e 900. Ha scritto 70 opere, oltre ad aver lavorato intensamente come giornalista. Già da giovanissima inizia a scrivere prima come redattrice del Corriere del Mattino di Napoli, poi a Roma come redattrice fissa del Capitan Fracassa. Nel 1885 sposa Edoardo Scarfoglio e per anni si occupa di una rubrica mondana, I Mosconi, del Corriere di Napoli da lei fondato e diretto insieme al marito. La rubrica della Serao diventa una pagina imperdibile del giornale, un'analisi ironica e puntuale dei costumi dell'epoca. Separatasi da Scarfoglio nel 1904, la Serao fonda negli stessi anni il giorno di Napoli, che dirigerà fino alla morte.